E benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti in questo video, io sono Xredo e oggi vi mostrerò il mio garage Iniziamo subito dalle meno costose a quelle più costose Iniziamo dalla mia LG RH8, un'auto che di base posso chiamare, è molto buona per chi vuole iniziare ma c'è di meglio di sicuro Poi l'auto più utile in fatto di agilità e di protezione così è la curma blindata Con i vetri blindati infatti, con lo spoiler, anche qui modificata Poi, io che avevamo tanto le gare, uso sempre questa, la JB200 Che non è molto bella di estetica, non è più veloce ma parte di colpo e ha una trazione molto alta Quindi le curve le provate a prendere tutta velocità e non partirete via Poi l'auto di lusso che ho è la Tesseract perché, siccome è l'auto migliore perché è elettrica Poi con la Librea Italia, con la striscia qui in mezzo, è favolosa Poi per gli amici, così se volete cazzaggiare con gli amici, c'è l'Insurgent Pickup Custom Modificato anche questo al massimo Come avete notato tutti i neri perché, vabbè, a me piace il colore nero opaco E ora andremo a testare la loro velocità e robe varie Come velocità non è un granché, come abbiamo detto prima Però se è una delle prime armi, ed è abbastanza bravo a guidarla Si può... cioè, è abbastanza utile Ovviamente c'è molti di meglio, come vedete le curve non le prende molto bene Poi il pedone che taglia la strada, è un dettaglio Come vedete non mi serve un'auto a guida, basta solo che non esploda la mia auto Visto la guida magnifica che ho E così, in accelerazione il rettilino non è per niente male E vediamo le prossime Ora il turno della Kuruma È abbastanza buono, parte quasi immediatamente La trazione fa un po' desiderare, ma vabbè Tutto è compensato dal fatto che ha una buona protezione Infatti, se andiamo qui E ammazziamo un poliziotto Cioè, almeno lo investiamo leggermente O anche un pedone, così Dovrebbe iniziare a spararci Ecco qui Come vedete, non posso poter sparare Ma pochissimi colpi entreranno in colpo Entreranno a segno Come vedete, mi stavo sparando in due Ma quasi un colpo sono entrati in segno Di conseguenza È per questo che è molto utile Se dovete fare delle missioni Dei colpi o così Vi consiglio di comprarla Non resiste a un RPG Ma neanche a un'altra ricerca Ma è un dettaglio che si può Non è che va a influire tanto Sull'utilizzo della Kuruma E adesso passiamo alla JB200 Come vedete, la partenza è quasi immediata Non è molto veloce Anche se ho della JB200 Le curve le prendono abbastanza bene Si, slitta un pochino Ma poi la curva la prende dritta La prende giusta E come se siete bravi a frenare Accelerare subito nella guida Vi servirà molto Perché alla velocità è buona Ed è anche una buona trazione E ora è il tunnel della Tesseract Di accelerazione non è per niente male Di velocità anche È quasi È una delle più veloci Poi il fatto che È una cosa mia personale Adoro le auto elettriche Perché non fa rumore E questo è il bello Si, di trazione Non è il massimo Se io provo adesso a girare Infatti mi inizia a scolettare Però se uno è bravo a guidare È anche un'auto buona Io l'ho presa più per l'estetica Perché Si, è la più costata del gioco Ma a me piace moltissimo L'estetica davanti Poi Se non avete abbastanza soldi Per comprare Perché 2 milioni e 6 Sono tanti Io infatti Ho aspettato gli sconti Per poterla avere E ultima Ma non per importanza C'è l'insulge pick up Che onestamente è una bestia Resiste più di un carro armato E C'ha diversi difetti Ma anche molti pregi Iniziano da difetti Primo Se voi mettete l'armatura pesante Quella al 100% Non potrete più sparare E per forza dovete avere O un amico O un compagno Così Che vi aiuti Nelle missioni Poi Non è molto agile Cioè È molto veloce Hanno buona partenza Ma basta Fino a qua Infatti I lati positivi Sono molti Di cui La resistenza Che resiste bene A 27 RPG Se siete dentro E avete l'armatura al massimo 6 RPG E 6 RPG Io penso che sia un ottimo veicolo In caso siete Fate sempre Giocato con gli amici Tipo il gruppo E tre amici In tre o quattro Perché qui C'è abbastanza spazio Per tipo otto persone E di conseguenza È una Io la chiamo più Un'auto per divertirsi Ecco Questo è proprio Che non mi veniva Il termine giusto E questi erano i miei veicoli Nel garage Spero che vi sia piaciuto Mettete like Lasciate un commento Se volete altri video come questi È da Xredom È tutto Bella